E abbiamo oggi il piacere di presentare il nuovo direttore generale dell'Avezzano Calcio, l'Avvocato Carlo Iacovitti. Però partirei subito con te Gianni. Come mai la scelta di questo ruolo sicuramente molto importante affidato all'Avvocato qui presente? Nella vita ci vuole gente di fiducia, soprattutto quando si ha a che fare con un'azienda e soprattutto con un'azienda calcio. Con Carlo Iacovitti abbiamo un rapporto ormai pluriennale aveva iniziato con me anni fa come responsabile del settore giovanile e poi man mano è passato alla prima squadra. E quindi torna a fare quello che già era di sua competenza, conosce bene soprattutto i giocatori under, ha una veste importante nella sua vita quotidiana di relazioni nel calcio e quindi credo che sia la persona giusta per allestire qualora servisse nel futuro qualcosa di importante nel calcio di riparazione. Avvocato, sicuramente un ruolo determinante, importante, ma come diceva Paris, lei ha esperienza nel campo. Qual è il suo progetto? Come intende muoversi? Adesso è iniziata questa nuova avventura, anche se ovviamente non ho mai staccato i contatti, insomma soprattutto con l'ambiente avanzano calcio. Sono di Avezzano quindi ho sempre vissuto e frequentato l'ambiente bianco-verde. I progetti sono da stabilirsi di volta in volta perché adesso siamo rientrati con la nuova presidenza dell'avvocato Paris e cercheremo di analizzare dapprima bene la situazione e poi cercheremo di porre le basi per un futuro più radiuso. Grazie mille al nuovo direttore generale dell'Avezzano Calcio.